Ciao a tutti, bentornati sul canale Amo gli italiani.La simpaticissima Michelle ha condiviso sul suo profilo Instagram un episodio davvero disgustoso, ecco cosa è successo Bella, brava, indipendente e donna di successo, oltre a queste caratteristiche, la showgirl di origini svizzere, si è sempre dimostrata davvero trasparente con il pubblico, a tratti senza peli sulla lingua Nonostante ciò, non manca mai di eleganza, forse complici il fatto che ormai la conosciamo, la sua ironia è diventata il suo marchio distintivo, che tra l'altro ha trasmesso anche alla figlia Aurora Ramazzotti, nata dall'unione tra Michelle Luzi e Rheeros Ramazzotti, in questo periodo più che mai, è sotto la lente d'ingrandimento del pubblico Madre da pochi mesi, condivide assieme alla madre gli attimi da neo-mamma, e per Michelle, da neo-nonna Dai personaggi dello spettacolo che si rispettano, non possono mancare di certo le critiche, dal mancato allattamento al seno, alla presunta finta commozione della nonna che guarda il nipote Insomma, chi più ne ha più ne metta, ma davanti a tutto ciò, non manca la risposta agli haters con la solita ironia e la giusta dose di sarcasmo Nell'ultimo ring condiviso da Aurora possiamo vedere lei stessa che parla con il piccolo Cesare, scherzando sul fatto che in questi giorni la stanno criticando perché ha ammesso di non poter allattare suo figlio per ragioni fisiologiche La sua risposta ha generato molto rispetto e sostegno da parte dei fan Michelle d'altro canto, non è solita dare abito a chi la critica, la sua arma vincente è sicuramente il sorriso che non manca mai Una delle dirette social su Instagram che è rimasta impressa nei fan, è sicuramente quella disavventura che è stata condivisa senza peli sulla lingua Mi ha cagato addosso, Michelle documenta l'accaduto.Durante questa diretta, la cara Michelle non era sola, ma in compagnia della sua storica truccatrice Laura Barenghi, protagonista di quanto accaduto La showgirl ha deciso di far raccontare alla donna stessa l'episodio Ragazzi, vi faccio vedere cosa è successo alla Barenghi oggi mentre faceva due passi Lauretta, ma cosa ti è successo? chiede Michelle a Laura. A questa domame la risponde, sono stata attaccata da un gabbiano, poi ha aggiunto, mi ha cagato addosso Questa dichiarazione ha fatto letteralmente impazzire il web, che anche questa volta ha apprezzato la spontaneità di una donna, che seppur sia un personaggio di un certo calibro, non perde mai occasione di far divertire i suoi fan e le persone che stanno al suo fianco Cosa ne pensi delle notizie di cui sopra, ti preghiamo di mettere mi piace e commentare la tua opinione in modo che possiamo discutere Non dimenticare di iscriverti al canale per rimanere aggiornato sulle ultime novità Arrivederci, ci vediamo al prossimo video